Lui è un pensionato di 71 anni, avrebbe seguito per molti anni una sua amica novantenne, morta poi qualche mese fa. La signora gli ha lasciato in eredità una lussuosa villa a Longare e questo ha insospettito i parenti dell'anziana, che sostengono che l'amico si sarebbe appropriato negli anni di diverse centinaia di migliaia di euro, approfittando del fatto che la donna non era più in grado di badare alle sue sostanze. Per questo lo hanno denunciato con l'accusa di circonvenzione di incapace.